Unità te, non siate un'unità enzo, dono unità te Discorso, discorso, dai che sei in diretta mondiale Oh, e come sei cambiato? Settura mondiale 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 Guarda che è un matrimonio, guarda lì La stavata, Enzo, il video è il tuo E' il discorso, Enzo Discorso, Enzo Oh, il raggio è il tuo Discorso, silenzio, silenzio Un discorso per Facebook Dai, dai, dai Giocate come dovete giocare Noi vinciamo Si Sììììì! Sìììììì! Si festeggia il compleanno di Vincenzo Nuzzo, oggi fa 70 anni. Spettatori paganti 84.000. c'è anche il 98 allora festeggiamo Vincenzo silenzio no dai canzoncina tanti auguri a te tanti auguri a te più forte tanti auguri a Vincenzo tanti auguri a te applauso siete su Youtube domani sarete su Youtube arrivo arrivo ma la polizia postale non si mette le mani davanti allo schermo ma tu non guardarmi basta gira brava difendimi brava vedo male che c'è lui che mette dei ricordi porco voi ma che mamme fantastiche vuoi vedere qualche ricordi vuoi vedere quanto è tutto vuoi vedere vuoi vedere vuoi vedere vuoi vedere vuoi vedere vuoi vedere Questo è il Vittoria Ives 2002.